salve a tutti per me faccio vedere ciao salve a tutti benvenuti a una puntata di questa serie su unravel 2 con me c'è come sempre la mia ragazza linda ciao a tutti e siamo qua cerchiamo di fare queste come andiamo qua no aspetta non riesco a capire la cosa eh ma niente aspetta ah forse no aspetta aspetta che qua c'è ma la è un po' complicata la situazione devi fare al contrario eh lo fa al contrario e allora andiamo molla ah ho capito si torna 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 siamo fermi qua aspettiamo che ritallaga quello ferma aspetta aspetta devi aspettare che che sia su ferma organizziamoci un attimo la cosa ferma voglio scappare calma ok allora dobbiamo uno uno deve spingere quel coso e l'altro fa aspetta non adesso aspetta non adesso ascolta me non adesso non adesso ora tu stai ferma lì dove sei ti dico io quando ti dico io quando ah si hai capito anche perché perché questa situazione sarà molto più complicata di Eh va bene Posso? Sì vai ok Eh Ora io so sperare che Non vada contro di me Non Vattene via 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 Fai adesso Torni indietro Fai L2 E tirati su L2 Tirati su Ok Tirati su Sbrigati E arriva qua Da me Ok Perfetto Bravo Hai capito No Torna indietro Torna indietro Torna indietro Perché c'è sto coso No Mi sembrava che Torna indietro Gioia mia Mi sembra che era Quello rosso Vale Mi sto spostando Verso l'alto Ok Come prima Dai Vieni Dai Salta Vai Ferma Ok Vai Ok 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 Adesso torna indietro Torna indietro Vai via 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 Fermati 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 No Torna Di là Di là Di là Ecco ok Ferma Bravissima E adesso Quando ti dico io Ritorni Ti fai tirare su Ma solo quando ti dico io Ok Aspettiamo che Ritornino completamente a posto Ok Adesso L2 Tirati su L2 Tirati su E stai ferma dove sono io Stai ferma lì Adesso Quello che dovremmo fare Semplicemente Quando aspetta tutte cose Eccetera Io tornerò là All'inizio Tu sposti quel masso lì E io poi faccio salto Contro salto E fisco là sopra Ok 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 Tu stai finché Non te lo dico io Tu stai Stai ferma lì Ok Perfetto Allora Ok Ok Perfetto Ora dai Ok Perfetto Adesso vado Ritorni Ritorni Via 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 L2 Tirati su Oh Perfetto Ah Bene No L2 Tirati su Meno male che c'è sta cosa L2 Tirati su Allora Vedi Puppet Spingi Ole E andiamo avanti E andiamo avanti Arrivati Di là Di là La luce In mezzo In mezzo In mezzo le lucette Al buccolico Ah Di nuovo I due bambini Cosa I due bambini Ah Dobbiamo andare Via 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 corri Corri Via Dobbiamo scappare dal Dal tacchino Dai Dai Tira di su Tirati su Va bene Dai Vai 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 Salta Salta Via Salta Ok Ora Di saltare Fai R2 A gran parte La E va buona Tu Ma che stai Facendo Ma chi Io Io Sì Che sto facendo Io Sì Mi stai Tenendo Agganciato Lì Salta Eh Vabbè Gioia Tesoro Mio del mio Cuore Allora Signori Mettete Vai Vai Gioia Corri 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 Dai Andiamo Corri No Non possiamo aspettare Il tacchino Il tacchino Tacchineggia Dai Vai Ora Sì Va bene Vabbè Sì Vabbè Gioia Tesoro mio Io Ne avremo per molto Mi sa ragazzi No Perché non c'è il tempo Non hai capito Tesoro mio E chi deve marcare XR2 E XR2 Sì Gioia Vai Vai Sì Vabbè Vai Saremo fino alle 10 In questo momento in cui stiamo registrando Sono le 9 e 3 minuti Quindi cercate di capire la situazione qual è Ok Perfetto Così Vai Bravissima Bene Ora Non c'è bisogno per me Vai andiamo Vai corri Eccolo E c'è l'altacchino Beh però Quella parte dovremmo averla saltata Il tacchino Allora ferma Ecco cos'è il discorso Allora Allora Perché Ah Ho capito Devo fare il nodo lì Devo fare il nodo lì E poi Allora facciamo Salta Salta e aggancetti a quella R2 Tirati su Fai quadrato Ok E adesso Tirati su Perfetto Ma porca Ok Adesso dovremmo poter saltare E dove dovremmo andare però E sto cercando di capirlo Tirati su Tirati su E sto cercando di capire un attimo A mollare Dove è lì Ah Ah è là dentro Dobbiamo andare Ah Ok Aspetta No E ho sbagliato Che mi ha mollato la cosa Ok Perfetto Comunque Abbiamo un'idea di cosa fare Allora Eia E ho Allora Tira Quadrato Legali Ok Così tu puoi tirati su Aspetta E che ci sono questi rametti qua che Lo vedi E bisognerebbe levare qualche modo i rametti E Non riesco a capire cosa devo fare Aspetta eh Ma può essere che devi spingere quello Eh so Eh sì ma Ah Vedi Ah ma fai scendere Ti fa scendere Dobbiamo scendere giù allora Eh sì Dobbiamo scendere giù Io pensavo Aspetta Ok Ah Sai che ho capito Ma com'è Non funziona Eeeh Niente No Vabbè no ma ho capito Va bene A quel punto era bloccata Tu non hai capito il discorso Ho capito io Allora Adesso tu fermati lì Tu fermati lì Ok Ok Adesso tu scendi Mentre io lo distrago Tu scendi Scendi Spingi E vai sotto Perfetto E adesso E tu come sei No Devo trovare un modo No 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 Non fare niente Non fare niente Giù A meno che No ho capito 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 Salta e controsalta E sposti E sposti il rametto Io Si Eh Dai Ecco Capito Spostalo Spingi Spingi Però da quel lato Dove scendere Io E io spingo E adesso andiamo di là Ciao Ciao Tacchino Ciao Tacchino Tacchino L'abbiamo evitato definitivamente Tacchino direi E porca Ma che è però No è sempre lo stesso Ora dobbiamo Ok L2 Tira di su L2 Tira di su Va bene Ok lo stesso Va bene E ora E aspetta E aspetta Dobbiamo saltare di nuovo Aspetta che ora devo Allora E alala Lo dobbiamo fare Salto Si Salta Agrappati Dai Rida lo slancio Ok Perfetto Ora Di nuovo Di nuovo Il cerchio Aspetta L2 Tira di su Ok Perfetto E adesso No E Olla Di come me E va buona tu Dai Olè E adesso E Boh Ma c'è un Aspetta Non c'è niente Ah No No Tira su Tira su Tira di su No Ok Perfetto ho capito Stai ferma lì dove sei E No Lì dove sono io Stai ferma Ok Deve devi distrarlo Adesso Salta L2 Poi tirati su L2 E tirati su Ok Poi Fretta L'importante L'importante è non cadere Ecco Ok E Eh Aspetta Ok Ok capito Ok capito Olè Ramo E poi Bu E poi via Vai 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 Si va bene Eh ciao Ciao Niente Perché dobbiamo saltare Agrapparci a quel coso là Ah C'è il cielo Si Aspetta che Eh di nuovo Vabbè 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 Salta qui Ai tronchetti Tronchetto 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 Muro Muro Troncone Via Ora Al tre Un due tre Vai Salta Ok Ok Salta di qua Di nuovo Sto scappando qua Penso e spero Basta Eh Allora Che sinfonia Eh Qua siamo al contrario Allora Tu salta E faccia Tira sopra Senza Attenzione Ok Tu ti aggrapparà Eh Si Allora Aspetta un attimo Ok Ok Ah ho capito Eh Pere Eh perché Mi salita sul tronco No Allora Tu scendi Torna indietro Dovrebbe Non dovrebbe Vederti E fai Saltare Ok Bere Allora Ok Adesso sali tu L2 E tirati su Ok Vai Andiamo Corri 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 Dove stai andando Corri E Tacchino Che sta Dobbiamo Dovremmo correre Basta Sì Questa Questa Cutscene Però mi sa L'abbiamo schivato Buong'impresso Cosa sta facendo Ah no Sta prendendo una lucina Davanti Ah Boom Ciao Tacchino Ciao Tacchino Tanti saluti Al Tacchino Faranno tanta pesa I Tacchino Eh già Sentite le Mirabolanti Battute Della mia ragazza Meraviglia Che meraviglia Ok Io Quindi questo livello Superato Anche se con un po' di Patena D'Anamos Veramente Anzi Di come era presa Eh effetti Sono solamente le 21 e 14 C'è la biofa Eh alla fine Sì Alla fine Sì Allora qua c'è l'altro livello Qua c'è l'altro livello Allora Ciao Non entriamo Adesso Ferma Non entriamo Adesso Io direi Salutarci qua Per questa puntata Darci appuntamento Insomma Alla prossima Appunto Puntata Con Untravel Sì Untravel 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 Sì Untravel 2 Untravel 2 Insomma Com'è Insomma Prostima Prostima puntata Vedremo Questo capitolo Si chiama Cattive acque Minchia Quello Poi Bene così Direi Beh Boh A sto punto direi Che salutiamo qua No Quindi Semplicemente Semplicemente Da me Che saltello Così come uno scemo E da La mia ragazza Che saltella Ancora di più Come una scema E puoi salutare Anche a voi Ciao A tutti Boh Saluto tutti quanti Voi Non vado ad andare lì Un saluto A tutti quanti Voi E alla prossima H.D.